Movida Locatelevision Un nuovo grande appuntamento con Movida Locatelevision Siamo a Pozzuoli a bordo della meravigliosa nave Miriam della compagnia di navigazione Gestur Per una serata oltretutto che speciale Direzione Ischia, i fuochi di Sant'Anna, Castella Aragonese I presupposti per una grande serata, per un grande spettacolo Ovviamente col sottoscritto dedicando l'intero show alla nostra meravigliosa Napoli Ci sono tutti e allora ufficialmente partiamo dal porto di Pozzuoli Miriam Gestur Grazie a tutti 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 Grazie a tutti